La mia esperienza con il Rotary Club Lugano è immensamente preziosa. Ho fatto amicizie, connessioni importanti e mi hanno fatto crescere e gratificato. Per questo a 90 anni di distanza ho voluto riunire tutti i soci nello stesso luogo dove si riunirono i padri fondatori. Celebrare questa giornata con una fotografia è come trasmettere un documento, una testimonianza che la continuità e l'impegno del Rotary Club Lugano sono ancora garantiti. La caratteristica del club risiede nel fatto che ognuno può contribuire a progetti mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità personali con l'attitudine a vivere il servizio alla comunità come un dono che si fa a se stessi ma soprattutto anche agli altri. Così è stato negli ultimi 90 anni. E così sarà per i prossimi 90. Così è stato negli ultimi 90 anni. Così è stato negli ultimi 90 anni. Grazie a tutti.